Buona domenica e buone olimpiadi a tutti cari amici social follower del vostro deluxe ebbene sì, finalmente si fa sul serio, da ieri sono partite ufficialmente l'edizione numero 33 delle olimpiadi era moderna così come la stragrande maggioranza dei media le chiamano per l'Italia al momento abbiamo tre medagli in bachico, un argento e due bronzi invece per quanto riguarda la cerimonia di apertura sentivo in radio da un esperto che ha organizzato più di una decina tra olimpiadi e paralimpiadi che magari si poteva dare un aspetto più sportivo rispetto a quello più spettacolare da un esperto è sempre una voce qualificata quindi magari come anche è giusto forse quattro ore sono state un po' eccessive quello che vi posso dire io per esempio ho visto ieri l'Italia-Brasile di Palabolo maschile, bella partita peccato che non ci siamo nella palacanessa però per esempio ecco ieri che persero sia la Grecia di Gianni Santetto Cumpo che è la Spagna di Sergio Scariolo contro l'Australia adesso in campo la nostra compagine femminile di Palabolo di Velasco che di forza azzurra forza azzurra speriamo di raggiungere col tanto numero di una quarantina di medaglie ciao a tutti ciao